fonditalia con martin coradazzi siamo a tirrenia all'interno del centro coni martin coradazzi del centro sportivo esercito del gruppo milano cortina duemila 26 e allora martin intanto come sta procedendo questo particolare raduno a tirrenia raduno al mare sempre piacevole quest'anno anche le temperature sono un po più basse rispetto allo scorso anno quindi riusciamo ad allenare molto bene qui al centro del coni che comunque è una struttura con tutte le apparecchiature adatte per fare per fare gli allenamenti che dobbiamo fare ecco quest'anno ti trovi in un gruppo nuovo anche perché abbastanza folto cioè vi allenate anche insieme alla squadra quanto è portata allenarsi in un gruppo così variegato cioè avere sia atleti più esperti di te davanti ma anche poi tanti giovani che sicuramente sono uno stimolo in più beh certo avere così tante persone assieme per allenarsi ognuno dal suo contributo e tutti gli allenamenti cerchiamo di tirare fuori il meglio avere delle persone che magari hanno più esperienza di me facendogli delle domande comunque cercando di interagire si riesce a migliorare magari dal punto di vista sia dell'allenamento ma anche dal punto di vista mentale cosa significa per te essere allenato quest'anno da un tecnico come saracco che ha vinto tanto nella sua carriera con pellegrino la lampic e non solo ecco avere un allenatore del genere cosa significa beh allenarsi con stefano saracco è una cosa molto positiva infatti lui ha vinto molto ha seguito delle persone che anche adesso stanno sono stanno molto forte che hanno vinto molte medaglie e comunque spero di riuscire a a tirare fuori il meglio da questa esperienza facendogli molte domande cercando di tirare di riuscire a captare riuscire a prendere quello che più riesco da lui in maniera da riuscire a migliorare nel miglior modo possibile ecco su qual aspetto secondo te devi migliorare maggiormente beh sulla gestione di gara soprattutto perché sono uno che molte volte parte forte poi tende a calare e soprattutto anche nella tecnica classica che è un mio punto debole quest'anno la fissa inserito nel programma della coppa del mondo la staffetta mista ci sarà anche poi peraltro la team sprint mista tu già hai fatto hai già partecipato a una competizione con questo format peraltro vincendo anche una medaglia ci descrivi un po che tipo di format è cosa significa cosa cambia in una staffetta insieme alle donne ma diciamo che rispetto a una staffetta maschile non cambia molto però comunque c'è molta differenza anche nazioni che magari hanno meno atleti forte da una parte o dall'altra riescono c'è più spettacolo soprattutto perché tutte le nazioni riescono a star lì nelle prime posizioni fino a giocarsela nel finale grazie Grazie.